questo prodotto l'ho voluto un poco io proprio perché trovo che ormai latte il tonico tutte questa ritualità da 50 anni a questa parte utilizzata si è un po sorpassata e ho voluto toccare più aspetti prima di tutto chiaramente la detergenza la tonificazione ma anche la protezione del microbioma si tratta di una crema molto soffice che viene spalmata facilmente e ha un effetto veramente stupendo lascia la pelle vellutata idratata pulita penso che sia in uno dei prodotti che avranno maggior successo di questa linea quando uno si abitua a questa ritualità la ritualità della crema che poi viene asportata con delle piccole lavetta con bagnati in acqua tiepida diventa un po dipendente perché perde meno tempo sia l'estetista che la cliente finale con un risultato stupefacente voglio dirvi perché è nato questo nuovo trattamento anti età di apolus cosmetics sempre più del mercato arriva l'esigenza di nuove metodologie i nuovi principi attivi per incontro l'invecchiamento cutaneo noi abbiamo pensato di curare simultaneamente più in estetismi l'idratazione le rughe le macchie cedimento e metterlo in un trattamento che con dei risultati stupefacenti in mano a chi però a delle estetiste che sono evolute ci sono evolute dai tempi che erano delle semplici artigiane con una preparazione minima adesso dopo la legge del 1990 sono diventata delle professioniste che curano sia la la pelle ma anche un po la lo spirito della cliente la cliente che si affida all'estetista con fiducia per avere un autostima maggiore poi finito l'infinito il trattamento la cliente è più contenta non solo perché la pelle più bella ma perché è stata ascoltata è stata coccolata una professionista che ha messo a disposizione le sue mani e la sua anima